E' un giorno triste per i vigili del fuoco di Caltanissetta. Nella notte si è spento, all'età di 57 anni, a causa di una brutta malattia, il pompiere di San Cataldo, Gianfranco Viviano. Circa un anno e mezzo fa ha scoperto di essere malato, ma nonostante questo non si era mai arreso. Viviano lascia la moglie Michela e i figli Giovanni e Paolo. Nel comando provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta si respira un'atmosfera surreale. Qui gli amici e colleghi saluteranno per l'ultima volta Gianfranco prima che il feretro sia trasferito nella chiesa madre di San Cataldo, dove domani alle 15.30 saranno celebrati i funerali. Poi, come richiesto dallo stesso Viviano, il corpo sarà trasportato a Delia per la cremazione. In mattinata è arrivato il messaggio social del gruppo pompieri nisseni, che ha comunicato il decesso del collega e grande amico. Viviano ha prestato servizio presso il comando provinciale nisseno per 32 anni, fino alla scoperta della malattia contro cui ha lottato fino all'ultimo. Nella notte le sue condizioni si sono aggravate, così i familiari lo hanno portato all'ospedale Sant'Elia, dove purtroppo è morto.